Mister Valeriano Loseto sapeva che la trasferta di Casarano sarebbe stata cruciale per il prosieguo del campionato e perciò aveva chiesto ai suoi di metterci soprattutto il cuore. E così è stato. Sul Prato Smeraldino del Capozza i Leoncelli hanno sfoderato una prestazione di coriacea bellezza ed hanno strappato tre punti fondamentali per la corsa playoff ad una diretta concorrente come il Casarano. Il tecnico Baresi sistema al centro della difesa l'ubicuo possente Biason, piazza l'asse dell'inventiva Capece-Montinaro e Mediana, gli indemoniati Taurino e Triarico sugli esterni. Il navigato collega Orlandi costruisce una malcerta diga con Argento e Figliomeni e legge metronomo Bruno, il tridente appuntito come pochi Favetta, Mincica, Sansone lì davanti. Dopo un quarto d'ora di studio da scacchisti si incendia il match. Piazzato affilato di Sansone e sopra la traversa. 60 secondi e vantaggio ospite. Contropiede repente ed esiziale, lancio illuminante di Colella per Lattanzio che di destro fredda guido in uscita. Tre minuti e cross misurato di Triarico per Taurino, scarico per Piarulli, destro flebile. Minuto 27, corner da destra di Montinaro e rompe dalle retrovie Danilo Colella, conclusione sbilenca. Alla mezza, tocco perfido di Sansone dal limite, volo prodigioso di De Lucia che, complice alla traversa, sventa la minaccia. Carezza di testa di Feola al quarantesimo e nulla più. Minuto 41, incornata tonante di Lattanzio ravvicinata, miracolo di guido e sciagurata ribattuta altissima di Colella. Episodio che traccerà un solco decisivo sul destino del match al secondo minuto di recupero. Campanile chilometrico nero-verde, buco di Quacquarelli, Lattanzio si invola a Callido verso la porta, l'estremo di casa lo scherma col guantone fuori area e viene espolso. Il Casarano in dieci non ci sta e reagisce d'orgoglio. Al sesto Argento scodella al centro dell'area ad un respiro della riga bianca respinge Provvido Turu. Petta al ventunesimo dimostra che pure difendere è arte sublime e c'era la sfera Favetta che provava a driblarlo. Idem dicasi al ventinovesimo, conclusione del puntero rossazzurro ed è ancora una volta Andrea De Wall a murarlo. A dieci dallo scadere, collo destro a parabola di Mariani di poco sopra la traversa. Infine la doppietta di Gianmarco Tedesco che chiude il sipario sul match. Prima a due dallo scadere su corner corto, capolavoro di prestidigitazione con un sinistro a giro che si insacca all'incrocio. Infine il più facile dei tap-in sul prezioso assist di palazzo che in controgioco aveva anche tentato in vano di superare Pitarresi.